Altri nomi di ebrei padovani sono quelli che sono stati deportati partendo da Vau, sono 48 persone, sono tornate tre donne, due sorelle Sabadini che sono ritornate ad Auschwitz e poi ricordiamo tutti gli altri che purtroppo non sono tornati. Queste iniziative sono nell'arco della giornata da memoria che ricorre il 27 gennaio, dato in cui sono stati aperti i cancelli di Auschwitz e sono più iniziative che anche il comune ha promosso in base, come è noto, alla legge istitutiva della giornata da memoria. Diciamo che sono le istituzioni, le scuole che si fanno promotrici di queste iniziative. Diciamo che noi ebrei ovviamente partecipiamo e portiamo la nostra testimonianza, ma è l'istituzione pubblica che ricorda questi 13 eventi che hanno colpito l'Italia e l'Europa. La comunità ebreica padovana, pur numericamente limitata nel numero delle persone, non sono mai state numerose, siamo arrivati negli anni 30 a 200 persone, però è sempre stata molto attiva nell'ambito padovano ed era molto integrata nella città e molti ebrei ricoprivano anche cariche di davanti. Le leggi razziali hanno interrotto purtroppo questa integrazione. La comunità ebrei hanno interrotto per la comunità di Dio. La comunità ebrei è un'ambito padovano, la comunità ebrei rinforzano.